a sorsi di benessere oggi prepariamo uno smoothie dimagrante e drenante perché dimagrante e drenante grazie agli ingredienti che abbiamo scelto ananas finocchio zenzero e rhodiola che cos'è la rhodiola la rhodiola è una pianta erbacea del nord che ha poteri che aiutano a dimagrire perché innanzitutto aiuta a combattere la fame nervosa e quindi quegli attacchi di fame che magari abbiamo il pomeriggio tra un pasto e l'altro non solo aiuta a riattivare il metabolismo e noi sappiamo che un metabolismo bloccato rallentato ci rende più difficile anche perdere il peso quindi far scendere l'ago della bilancia terzo motivo la rhodiola sembra che aiuti ad utilizzare le nostre riserve di grasso quindi è un'alleata della nostra linea e poi abbiamo qui l'ananas e il finocchio sono tutte e due drenanti aiutano a perdere i liquidi in eccesso mi raccomando l'ananas utilizzate anche il gambo quindi la parte centrale quella più dura perché è quella ricca di bromelina che è proprio la bromelina che appunto ha proprietà diuretiche e drenanti che aiuta quindi ad eliminare i liquidi in eccesso e partiamo con la ricetta mettete tutto all'interno del frullatore un pizzico di polvere di rhodiola se non trovate la polvere di rhodiola potete anche utilizzare le capsuline che si trovano ovunque sia nei negozi che vendono prodotti naturali, nelle erboristerie, aprire la capsulina e metterla all'interno del frullatore se necessario aggiungiamo un goccino di acqua per renderlo un pochino più fluido e abbondante ghiaccio e andiamo un pizzico di zenzero che dà sapore ed è anche un digestivo decoriamo con foglioline di menta fresca guardate cremoso, sfumoso, drenante e dimagrante